Torniamo spropositatamente su Uomini e Donne, argomento del momento, e sì, facciamo un po' di compagnia al grande fratello Vip. Signori, Cristina Tenuta è una delle protagoniste di questo programma. Sì, questo programma, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel corso del programma la dama ha vinto la sfilata di intimo con un completino bello di pizzo bianco, capelli sciolti, voluminosi e fisico, beh, che ve lo dica a fare, da favola. Ovviamente non è passata inosservata al parterre maschile ed è uscita con Riccardo. La dama, infatti, è arrivata a Uomini e Donne perché è contattata privatamente dall'ex fidanzato di Ida Platano, che a sua volta le aveva chiesto di sentirsi lontano dalle telecamere. In studio, Riccardo e Cristina Tenuta si sono poi conosciuti, ma poi si sono scontrati a causa dei loro caratteri abbastanza incompatibili. Poi successivamente è stata la volta di Armando incarnato, ma anche questa volta la conoscenza tra i due non è che sia andata molto bene. Cristina Tenuta ha quindi rivelato di essersi sentita con il cavaliere partenopeo Alessandro e di essersi interessata a lui. È stata alla fine una dichiarazione che ovviamente ha scatenato la gelosia di Armando incarnato e le critiche dei due opinionisti, cioè Gianni Sperti e Tina Cipollari. In pratica sappiamo che Cristina è una delle dame più chiacchierate del momento, ma non è che sia un volto nuovo di Uomini e Donne. Proprio così, perché la dama è già stata nello studio del dating show e la notizia è stata data dalla pagina Instagram Uomini e Donne Classic Cover, con un video tra l'altro vecchissimo e risalente addirittura al 2013, insomma, che anche se non posso dire totalmente diversa, ma si riconosce che è lei. Nel video pubblicato dalla pagina, si vede Cristina tenuta in un intervento dallo studio, mentre si trovava tranquillamente tra il pubblico. Come detto, appunto, era all'anno 2013 e sul trono era seduto Eugenio Colombo. E nel filmato interviene contro una corteggiatrice in particolare, cioè Francesca del Taglia, la ragazza poi scelta da Eugenio alla fine del suo percorso a Uomini e Donne. Questo, cari amici, è tutto per quanto riguarda questa news. Vi ringrazio per l'ascolto. Quando volete altri aggiornamenti ci rivedremo qui su Pausa Caffè per altri succulenti video.